Scusa, ma sei Paolo Ruffini? Sì Mi presti due euro? Per cosa? Ma devo andare al cinema Sì, ora devi andare al cinema Con due euro al cinema! Ma dai, ma inventati un'altra scusa Il biglietto del treno, che ne sono! È vero ragazzi, con due euro potete vedere l'anteprima dei babysitter il 12 ottobre Invece il 20 ottobre ci saremmo tutti noi in cast a fare le foto insieme a salutarvi Al Cine Palace di Riccione e all'Ebefane di Rimini Vi aspettiamo perché saremo lì Cioè non fateci venire fin lì e voi non ci siete Un bacio al 20 ottobre o al 12 per l'anteprima O tutte e due, se vi piace tanto Non ce l'hai il resto, prelevato ora, solo con tanti Eh vabbè, dammi questo, siamo in tanti, tanti amici Andiamo al cinema a vedere tanti film a due euro Ma poi sei miliardario, ma barboni! Scusate, ma questi tre imbecilli hanno anche sbagliato data Ci vediamo il 21 ottobre alle 20 e 30 Al Cine Palace di Riccione E alle 22 e 30 alle Befane di Rimini Mi raccomando, 21 ottobre, vi aspetto!